Parallelepipedo, diagonale e area. Prendiamo un parallelepipedo rettangolo, prendiamo la diagonale D'B che è l'ipotenusa del triangolo D'B con i cateti D'B e D'B. Chiamiamo D e D'B le diagonali D'B e D'B. Indichiamo con ABC le dimensioni del parallelogramma e applichiamo il teorema di Pitagora. Al triangolo rettangolo in A DAB e vediamo che D quadro B è uguale ad A quadro più B quadro. Poi al triangolo rettangolo in D D'B. In questo caso D quadro è uguale a D quadro B più C al quadrato e vediamo che in questi due casi abbiamo che D quadro B e D al quadrato sono uguali. Quindi sostituiamo i valori e vediamo che A quadro più B quadro è uguale a D quadro B più C al quadrato e quindi D quadro B è uguale ad A quadro più B quadro più C quadro. Quindi D B è uguale ad A quadro più B quadro più C quadro. La misura della diagonale di un parallelepipedo rettangolo si ottiene facendo la radice quadrata della somma dei quadrati delle tre dimensioni. Prendiamo un parallelepipedo rettangolo che è un prisma retto. L'area laterale si ottiene moltiplicando il perimetro per l'altezza. In questo modo si riveste tutto il prisma ad eccezione delle due basi. Per calcolare l'area totale del prisma bisogna aggiungere le due aree della base. In questo caso l'area laterale è uguale al perimetro per altezza e aggiungendo due volte l'area di base otteniamo che l'area totale è uguale all'area laterale più due volte l'area di base. L'area laterale è uguale al perimetro per altezza dalla formula diretta. Per la formula inversa abbiamo che il perimetro è uguale all'area laterale fratto l'altezza e l'altezza è uguale all'area laterale fratto il perimetro. L'area totale è uguale all'area laterale più due volte l'area di base e dalla formula inversa otteniamo che l'area di base è uguale all'area totale meno l'area laterale fratto 2. Escludendo le aree della base come in questo caso possiamo vedere che l'area laterale è uguale a due volte AC più due volte AD. L'area laterale si può calcolare anche facendo AC è uguale a A per C, AD è uguale a C per B e quindi l'area laterale è uguale a due volte AC più due volte CB. Quindi l'area laterale è uguale a 2 che moltiplica A per C più C per B che è il rivestimento meno le aree della base. Quindi l'area totale che è tutto il rivestimento è uguale all'area laterale più due volte l'area di base e quindi è uguale a due volte per A per C più C per B e l'area totale si ottiene quindi sommando a questo valore due volte AB. La AB quindi sappiamo che è uguale ad A per B e quindi l'area totale è uguale a due volte A per C più C per B più due volte A per B e quindi l'area totale è uguale a due volte A per C più C per B più A per B.